Gli esperti le chiamano giornate di ghiaccio e si verificano quando anche le temperature massime non superano gli zero gradi. Secondo Vittorio Marzio di Meteovalnure.it, con ogni probabilità a Piacenza assisteremo alle giornate di ghiaccio nei prossimi tre giorni. Inoltre, tra il pomeriggio di domani e la mattina di mercoledì potrebbe scendere la neve a causa di una debole perturbazione atlantica che si scontrerà con le correnti fredde che provengono da est e stanno causando un clima particolarmente rigido. L'esperto assicura a Telelibertà che comunque non dovrebbero registrarsi accumuli di neve. Nel frattempo le associazioni di soccorso sono scese in campo nel weekend e continueranno a farlo nelle prossime notti per offrire aiuto e ristoro e senza tetto. I numeri della macchina di solidarietà sono significativi. Nelle ultime settimane di dicembre la Caritas ha distribuito oltre 100 coperte e 60 sacchi a pelo. Tutti al completo i dormitori. Il presidente Giuseppe Chiudaroli spiega che l'obiettivo della Caritas va oltre l'offerta delle coperte nel tentativo di recuperare la persona dalla condizione di povertà in cui si trova. Servizi straordinari anche per la Croce Rossa e l'Ampas. La prima, in collaborazione con la Questura, ha distribuito nelle ultime tre notti bevande calde e circa 40 coperte. Ampas, che questa sera alle 20.45 nella sua sede ospiterà il corso gratuito per nuovi volontari, è stata impegnata con una ventina di persone e riprenderà il servizio nelle ore serali e notturne di oggi. Abbiamo avuto un'attivazione ovviamente a livello regionale e facendo focus sulla nostra provincia la situazione sicuramente non è differente. Abbiamo delle zone con temperature molto rigide, i problemi che sono poi di carattere sociale sono principalmente nelle fasce notturne perché purtroppo causa la crisi, causa comunque tutta una serie di situazioni. Noi ci troviamo ad avere delle persone che vivono proprio in strada e con questo tipo di temperature possono incontrare, anzi sicuramente incontrano, delle gravi difficoltà. Il meteo non è positivo perché sono previste giornate di ghiaccio con anche le massime sotto zero, domani possibili nevicate. Continuerete quindi con le vostre notti al lavoro? Sicuramente sì, abbiamo fatto un briefing telefonico anche ieri sera con la Prefettura che è particolarmente sensibile a questa problematica. I centri principalmente seguiti sono ovviamente al di là di Piacenza, ovviamente Castel San Giovanni e Fiorenzuola in cui le pubbliche assistenze comunque sono presenti per dare il massimo supporto.